Fare ricerche su Google costa molto in termini di sprechi di energia e di produzione di anidride carbonica. I 3,5 miliardi di richieste al giorno inoltrate al motore di ricerca rappresentano il 40% del totale delle emissioni di internet. Il web dipende da milioni di server che conservano e processano i nostri dati in tutto il mondo. Per far funzionare tutto questo è necessaria moltissima energia. La maggior parte di essa proviene da fonti non rinnovabili. Uno studio del 2015, scrive il quotidiano online Quartz, sostiene che l'attività di internet produca la stessa quantità di anidride carbonica dell'industria aerospaziale. Elettrificazione della mobilità privata, sistemi di sharing mobility per tutti, sempre più semplici da usare, spostamenti a piedi e in bicicletta più sicuri e nuovi spazi verdi che rendano le città più vivibili. Sono solo alcuni dei temi affrontati in Green Mobility come cambiare la città e la vita. Il libro di Legambiente, curato da Andrea Poggio, presentato a Roma durante un incontro dedicato alla mobilità elettrica, organizzato da Forum Quale Mobilità di Legambiente e l'Orient Consulting, in previsione degli stati generali della mobilità elettrica e sicura. Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali punta anche su Marte, o meglio sulla realizzazione di una struttura per la simulazione dell'ambiente marziano per competere a livello internazionale ed essere attore di primo piano nella ricerca aerospaziale del nostro paese. Il progetto si chiama Mars ed è uno dei nove programmi bandiera individuati nel nuovo Prora, il programma nazionale di ricerche aerospaziali che globalmente prevede importanti investimenti. 130 milioni a cui seguiranno altri 200 milioni dopo il 2020. La struttura che sorgerà a capo punta a distinguersi dalle altre già esistenti in varie parti del mondo.